Il cartello affisso al cancello d'ingresso dell'abitazione di Massimo Fantauzzi oggi, giorno della sua cattura, suona come un sinistro presagio. Dopo otto giorni di latitanza, il 46enne pizzaiolo di Montesilvano che la notte di sabato scorso ha esploso un colpo di fucile in pieno volto uccidendo il 21enne rom Antonio Bevilacqua, si è consegnato ai carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Pescara che lo stavano braccando da giorni. L'hanno trovato non lontano dalla sua abitazione di contrada con l'evento alta a Montesilvano Colle, a pochi chilometri dal pub Birrami di Via Verrotti teatro del litigio prima e dell'omicidio poi. Fantauzzi ha vissuto otto giorni nella boscaglia mentre i carabinieri passavano al setaccio via terra e con gli elicotteri la zona alta della città. Stremato, alle nove di questa mattina, ha deciso di arrendersi alla prima paltuglia che ha visto, come racconta il colonnello Marco Riscaldati comandante provinciale dei carabinieri di Pescara. Avevamo ristretto il campo d'azione, il cerchio attorno ad alcuni chilometri quadrati e questa attività ha portato i suoi frutti perché anche nelle ultime ore come dicevo l'uso dell'elicottero aveva avuto un forte impatto e Fantauzzi a un certo punto, probabilmente perché riteneva di essere prima o poi scoperto, si è portato sulla via e si è consegnato ai carabinieri che erano lì. Il cerchio delle indagini ormai sembra chiuso. Fantauzzi è stato interrogato a lungo nella caserma di Viale Pindaro a Pescara almeno fino alle 14.30 e, dopo iniziali resistenze, avrebbe confessato tutto permettendo ai militari di recuperare prima l'arma del delitto, un fucile, poi la moto con cui è fuggito sabato notte una CBR 600 della onda di colore rosso. I sommozzatori del nucleo subacui dei carabinieri l'hanno recuperata nel fiume Pescara sotto il ponte delle Fascine a Cepagatti, non lontano dal centro commerciale megalodiche di Scalo. Ancora stretto riservo invece su tutti i dettagli di questa indagine che saranno diffusi in una conferenza stampa fissata per lunedì mattina.